Ciao a tutti ragazzi, oggi 19 maggio 2018, data importantissima per la città di Bergamo, Bergamo News e Bergamo News Young vi accompagneranno durante tutta la sfilata del primo Gay Pride a Bergamo. Lei invece da cosa è vestita? Beh diciamo che no, più che altro io sono la parte esibizionista del Gay Pride, perché essere gay può essere tutto esibizionisti come noi, ma può essere anche gente normale, normalissima come tutti questi che vedete qua. Tanti mi dicono, ma tu per prendere i tuoi diritti al Gay Pride ti vesti così? Io diciamo che sono una persona che fa parte dello spettacolo, quindi è inutile che mi metto il tagliere per andare a un Gay Pride. E se stessa? Brava, infatti mi piace essere esibizionista, poi aiuta anche il mio personaggio e che ben venga, giusto? Una su mille ci sta, dai, ovvio!